Semiramide. Abbiamo visto che ha questa corona di rami. Semiramide è colei che porta il ramo. Semiramis. Quindi porta il ramo, quindi ha la responsabilità dell'albero genealogico, tramanda una linea di sangue. Ok, e fino a qui è chiaro. Poi c'è il mirto, che ha una simbologia. Ogni cosa ha una simbologia, anche a strati, a più valori, più significati, a seconda della lettura che gli diamo. E possono andare tutti bene. L'importante è dare la quadratura del cerchio, cioè che sia concettuale, che abbia un senso, che sia visibile. Allora, Semiramide ha questi rami, ha questa corona nella testa, ma non ha solo quello. C'ha questa, guardate, si forma alle spalle questa figura azzurra data dal cielo in profondità, nello sfondo, che formano, presumibilmente, se la supposizione è giusta, dei polmoni. Ora, alle spalle di Semiramide, Europa, abbiamo visto che è anche la Dea Europa. La Dea Europa perché ha un significato a strati. Ma questi polmoni, che hanno un significato esoterico, segreto, perché segreto? Perché i polmoni, nel 1500, un pittore che conosceva la forma dei polmoni anatomica, nascondeva un segreto, cioè, come minimo, le dissezioni cadaveriche. C'è lo studio dell'anatomia umana. Era amico di Leonardo, dieci anni più grande, grande amico di Leonardo, con cui condivideva molti segreti. Si dice, anzi, io vi darò dei documenti, che sia stato gran maestro massone, sia Botticelli che Leonardo, e tanti altri. Quindi, questi segreti cominciano a parlare attraverso questi polmoni. Che, attenzione, guardiamo bene, ancora più in profondità nel simbolo, oltre che dei polmoni che, in questo periodo storico, sono inquietanti, perché è lì che colpisce principalmente qualcosa che conosciamo molto bene, e che è vicino a quella corona di rami, capillare. Si forma, guardate, un arco, un arco. Allora, l'arco è un simbolo massonico. E voi direte, sì, ma allora tutto è un simbolo massonico. No, tutto ha un simbolo massonico se c'è la chiave di lettura dell'enigma, del codice. Allora, il simbolo massonico si esprime alle spalle di questa Dea Madre, che simboleggia l'amore attraverso il mirto, attraverso la creatività dell'atto sacro della gestazione, di generare un figlio, una prole, un'erede, i colori regali con cui è dipinta, l'abito con tutta la simbologia che ha, ma non potremmo fare una supposta, una supposizione di pochi minuti. Fermiamoci un attimo. Questo arco forma un portale alle spalle di Semiramide, Europa, Venere. Quindi, questo portale è massonico. Ed è proprio all'interno di questo portale che c'è ancora una volta il Tempio della consapevolezza, il Tempio dell'essere umano, in questo caso una grande madre, e quindi ancora più importante. E ricorda molto il contesto e il significato della Gioconda. Anche lei è inserita in un portale fra due colonne. Le colonne qui sono celate dalle colonne dai tronchi d'albero. Sempre colonne sono. E fanno un portale, una loggia massonica, su cui esiste, troneggia al centro di tutto il dipinto della primavera del Botticelli, questa figura. E andiamo a vedere se vi ricorda ancora una volta questa che è la filigrana. È contenuta dentro le banconote. La filigrana, già il nome, filigrana. Parla sempre di soldi, la grana. E c'è questa immagine in trasparenza, invisibile, ma visibile a chi è attento, osservatore, e la guarda attraverso la luce. Una fonte di luce. La simbologia è sempre al lavoro. Guardate se non ricorda la stessa cosa. Poi ci sono delle leggere differenze. Perché la Dea Europa poi viene rappresentata nel XX secolo con dodici stelle sul capo come corona. Dodici stelle accennate in questa filigrana. Solo come sagoma. Ma c'è il portale. C'è la loggia. C'è l'arco. Che ricorda tantissimo proprio questo di Semiramide. con lei che porta il ramo. Europa. Euro. Quindi è incredibile questa sovrapposizione. Poi, leggere differenze sono dovute al fatto che i segreti si alimentano di segreti. Non sarebbe un segreto se ci fosse scritto salve, sono Semiramide e o sono Europa. Il segreto si alimenta di un segreto. E tutta la simbologia di tutto questo dipinto letta in maniera adeguata racconta storie incredibili. E il bello deve ancora venire. Perché sopra a Semiramide sopra a Europa c'è che poi è sovrapponibile anche a una Vergine Maria a una Madre Maria perché poi diventerà anche quello. Perché il mito cambia. Venere diventa un simbolo mariano. Quindi sopra c'è Eros e qui dopo andremo a vedere cose incredibili che ci riporteranno a Roma a un vecchio vizio dei massoni che riguarda purtroppo una pratica che verrà fuori in questo periodo in questi tempi e in più ci sarà tutta la parte che interesserà molti cioè quella del sesso quella del rituale massonico che poi diventerà alchemico cabalistico perché ermetico sono tutti uniti si incastrano perfettamente in una tradizione antichissima che affonda le radici nel paganesimo. abbiamo visto cose interessanti quindi riassumendo possiamo concludere che ci sono almeno cose che fanno riflettere sono solo supposizioni storie supposte vi aspetto per una nuova storia ciao